Maria F. Nella vita ti succedono certe piccole storie a cui resti legato anche se sono durate poco. Dopo quasi 50 anni il ricordo che affiora da questo foglio di quaderno rimasto piegato per tanto tempo è forte e chiaro e merita di essere narrato. Ci ho pensato per mesi, non avevo il coraggio di scriverne. Poi l'ho trovato. Credo che in questi momenti vissuti e condivisi ci sia tanta anima, tanta poesia e anche questo una piccola storia. Vittorio era un caro amico, ci eravamo conosciuti alla facoltà di lettere alla sapienza. Avevamo un piano di studi molto simile e quindi ci trovavamo il più delle volte alle stesse lezioni. Era alto, magro, con gli occhiali da miope e l'aria di chi non sarebbe mai sceso in piazza per le manifestazioni, sempre in giacca, cravatta, con una cartella da impiegato dove metteva i libri. Con quei capelli corti, quasi da carabiniere, sembrava uscito dagli anni 50. Il padre, pugliese, lavorava al ministero delle finanze come impiegato e la sua casa era, nella sua semplicità, di un ordine magnacale. La madre era una signora gentilissima, molto formale. Parlava a un calabrese così serrato che capivo solo una piccola parte dei suoi discorsi. Con Vittorio eravamo diventati amici perché suonava bene la chitarra classica e amava molto i Beatles, mi insegnava con pazienza molti accordi e mi aiutava nello studio di alcuni libri che trovavo complessi. Abbastanza spiritoso, gran fumatore, avevo un vizio sorprendente per un ragazzo della mia età. Andava almeno una volta alla settimana con le prostitute. Le cercava sul messaggero, dove all'epoca c'era una pagina dedicata alle massaggiatrici. La scorreva, faceva una crocetta sui nomi di quelle con le quali era già stato. Un numero impressionante. E accanto scriveva il voto che assegnava loro per la prestazione. Nessuna aveva un dieci, ma tanti erano i sette e moltissimi tre e quattro. Gli piacevano le donne mature, sui quarant'anni, che avevano più esperienza. Un giorno mi chiese se volevo accompagnarlo da una donna che lavorava in via Panisperna, nel quartiere Monti. La conosceva già e mi disse che era gentile, paziente, molto provocante. Io non ero mai stato in casa di una prostituta e la curiosità mi fece dire di sì. Andammo all'appuntamento nel tardo pomeriggio con la mia lambretta e durante il viaggio mi propose di provarci anch'io. Dissi categoricamente di no, non mi andava proprio. Fra l'altro ero ancora depresso perché la mia ragazza ne aveva lasciato da poco. Arrivati davanti al portoncino, mentre parcheggiavo uscì un signor anziano che si aggiustava la giacca e si allontanava, un po' claudicante. Pensai che potesse essere un cliente che aveva preceduto Vittorio e la cosa mi parve molto squalida. Giunti davanti alla porta al piano terra, Vittorio suonò il campanello e insistette. Ma provaci, vale la pena, ti mette a tuo agio. Gli feci capire che doveva lasciar perdere. La porta si aprì e apparve una ragazza sui 25 anni. Era molto carina, castana, con i capelli raccolti a coda di cavallo. Aveva una minigonna che metteva in mostra le gambe perfette. Non era truccata e questo mi stupì. Il suo viso così naturale era quello di una ragazza normalissima, la vera ragazza della porta accanto. Vittorio la salutò in tono molto confidenziale, lasciando intendere con una punta di compiacimento che era un abituè di quell'appartamentino. Poi mi presentò. Lui è Carlo. Le diedi la mano, un po' a disagio, perché non c'era bisogno di pronunciare il mio nome. Lei con un lieve sorriso disse, piacere, Maria. Chiuse la porta alle nostre spalle e si rivolse a Vittorio. Ti chiamo Silvana e aggiunse, solo te o anche lui? Subito io replicai, no, no, solo lui, solo lui. Maria fece pochi passi, bussò ad una porta e disse, c'è Vittorio. Ci fece accomodare su un divanetto nell'ingresso e segnandò in cucina. Ma questa è veramente carina, pure lei è una prostituta, chiesi incredulo. Accendendosi l'ennesima sigaretta, Vittorio fece sì con la testa. Poi precisò sottovoce, è un bel tipo. Ma a me piacciono quelle mature. Secondo me Maria non c'ha l'esperienza di Silvana.